Ma che sta per me in giallaggio? Ma fa la luci rosso! Sì ma non va! Non è che fa la luci rosso, vuol dire che sta per me? Dunque, io l'ho acceso, vero? Sì, l'ho acceso. Ok, lampeggia. Io gli sto dicendo che deve fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e gli do l'avvio. E lui va male. Ma questo qui, perché l'hai rispostato?